Buongiorno e bentrovati per l'edizione delle ore 14 dei nostri telegiornali che apriamo parlando di cronaca e dell'omicidio avvenuto la notte scorsa a Catania, poco dopo Luna, nella centrale piazza Palestro. E' morto Enzo Valenti, 21 anni, colpito all'addome da un proiettile. Inutile la corsa in ospedale, potrebbe trattarsi di un gesto d'impeto. Simona Scandura. Si spara nel cuore della notte in piazza Palestro Enzo Valenti, di 21 anni, stato raggiunto da un proiettile che gli ha trapassato un braccio e si è fermato poi nell'addome. Inutile la corsa all'ospedale Vittorio Emanuele, dove il giovane è morto poco dopo. Secondo le prime ricostruzioni, il 21enne si trovava in piazza quando ci sarebbe stata una lita violenta con un'altra persona, una colluttazione. I toni erano alti e l'omicida si è allontanato. Dopo però sarebbe tornato, questa volta con una pistola in mano e ha sparato ad Enzo Valenti, che prima si è accasciato all'angolo della chiesa e poi ha provato a fuggire verso via Palermo per cadere a terra, sanguinante, qualche metro dopo. I soccorritori hanno detto alla polizia di aver trovato il ferito in strada e di averlo trasportato d'urgenza in ospedale, ma di non aver assistito alla sparatoria. Il giovane Valenti è un incensurato, anche se il padre è stato già arrestato nel 2006 durante il Maxi Blitz Atlantide, che ha assestato un duro colpo al clan Pillera Puntina. E mentre la Procura della Repubblica di Catania apre un'inchiesta per omicidio, gli inquirenti provano ad interrogare familiari, amici e conoscenti per capire le sue ultime frequentazioni. Non è escluso che si tratti di un'azione d'impeto, una lite furibonda finita poi nel sangue. Gli inquirenti sono al lavoro e si punta molto sulle telecamere che potrebbero aver ripreso gli attimi prima dell'omicidio. In Piazza Palesso abbiamo ascoltato anche gli abitanti della zona. La vita è ripresa a scorrere normalmente anche se chi abita proprio in quella zona di Piazza Palestro dice si sente abbandonato dalle istituzioni proprio per gli episodi di criminalità che sono sempre più frequenti. Nessuno ha sentito nulla, nessuno parla. I venditori ambulanti sono al loro solito posto per vendere frutta e verdura. Tutto tace in Piazza Palestro, riprende la vita normale, si entra al bar per fare colazione, si passeggia con i bambini, si entra in macelleria, ci si incontra al chiosco per fare due chiacchiere. Le parole degli abitanti della zona sono crude e rassegnate. Ne succede una al minuto che vuole che sia. Succedono tutti i giorni queste cose qua. Purtroppo non siamo protetti da nessuno. Camminiamo, devo stare attenta se mi scippono, se mi fanno. Siamo in pericolo, ma non c'è nessuno che ci protegge. Da quanti anni vive in questo quartiere? Da tanto tempo, di più di 40 anni. È sempre stato così? È sempre, sempre. Anche che non sono di qua, sono di fuori. Ma combinano sempre queste cose qua. Che possiamo fare? Cosa è successo ieri sera tra l'una e le due di notte? Io sono stato mio, a casa, non so niente. Lei vive qua vicino? Io vivo in quella zona lì. Mi ha detto mia figlia stamattina che l'ha visto su internet, ma non sappiamo né chi è né chi non è, perché cosa è successo. Io sono venuto stamattina alle 8, non so niente. Che non ha un'altra manzione, ce ne andiamo. Cioè non lo so. Piazza Palestro era stata ristrutturata prima dell'estate dell'amministrazione comunale, poi balzata agli onori della cronaca per alcune fontane non funzionanti e adesso diventa la scena di un delitto. A quell'ora il bar rimane aperto per fare le crispelle, qualcuno dice, ma in realtà nessuno ha sentito nulla. Parliamo adesso di un incidente sul lavoro a Palermo. Costantin Andronici, 47 anni, dipendente della ditta Bellavia Ricami, è morto questa mattina in via Pietro Nenni, nel capoluogo di regione, cadendo da un'altezza di 3 metri mentre stava sistemando i cavi di un'insegna pubblicitaria. I medici del 118 ne hanno constatato la morte sull'incidente, indagano i carabinieri. Spazio adesso alla politica e alla situazione legata al PD a livello regionale, ma anche a livello nazionale perché alcuni sondaggi danno una perdita costante per i Dem di 7 punti percentuali all'anno. Salvo Falcone. Il sondaggio sul barometro politico di Demopolis, che vede il Partito Democratico in picchiata, passando dal 32% del novembre 2016 al 25% di oggi, è stato chiuso prima che scoppiasse l'inciuccio siciliano, definizione usata dal Movimento 5 Stelle. Sette punti percentuali meno che, se si votasse oggi, rappresentano il dato più basso della segreteria Renzi. E da Roma prosegue il silenzio assordante sulla vicenda che fa tremare il PD in Sicilia. Il soccorso dato all'elezione di Miciche ai vertici dell'Ars da quattro deputati Dem e dai due rappresentanti di Sicilia Futura. La lista civica alleata del PD è fondata da Cardinale. Mentre si attende una prima difficile ricomposizione con la nomina del capogruppo Dem all'Ars, getta benzina sul fuoco la renziana Valeria Sudano, ormai ex deputato regionale, ma che punta alle prossime nazionali. Se la prende con la gestione del partito in Sicilia, definita inesistente, e si dice quasi certa di conoscere quelli che definisce riti consumati per avvallare o denigrare qualsiasi operazione politica. Parte da lontano la Sudano. Le fratture interne al partito, dice, sono figlie delle contrapposizioni nate durante il governo Crocetta e dettate da logiche di posizionamento personale che nulla hanno a che fare con l'ideologia. Una dichiarazione che aumenterà le proporzioni dello scontro che ha assunto le dimensioni della resa dei conti. Ma tornando al barometro Demopolis, spicca quel 7% attribuito alla nuova lista unitaria di sinistra guidata da Pietro Grasso, che oggi, dalla prima del Corriere della Sera, dice, voglio ricostruire il Paese. Mi candido al Parlamento, non per X Factor. Si divide in due il processo a un dirigente della regione siciliana e a sei imprenditori accusati di abusivismo edilizio e violazione della legge ambientale per la costruzione del MUOS di Niscemi, il sistema di telecomunicazioni militari degli Stati Uniti. Quattro dei sette imputati, infatti, hanno fatto richiesta al Tribunale monocratico di Caltagirone e hanno avuto accesso al rito abbreviato. Parliamo adesso del Comune di Catania, perché c'è stato un botta e risposta fra Arcidiacono e l'assessore, perché il pericoloso peggioramento dei conti, che affosserebbe ancora di più la situazione finanziaria del Comune di Catania, è sempre al centro delle polemiche. Questo è quanto denunciato dal Vice Presidente del Consiglio Comunale, Sebastiano Arcidiacono, dopo un'attenta analisi della proposta del bilancio consolidato del conto patrimoniale adottato dalla Giunta Bianco. Insomma, un altro buco di bilancio, secondo Arcidiacono, che ascoltiamo. Continua una necessità di avere la verità sui conti del Comune, ma sulla differenziata, sul bilancio, perché i cittadini che pagano le tasse, in qualche modo, a loro bisogna rendere conto di come stanno le cose. E dalla relazione al bilancio, peraltro con un parere negativo, non favorevole, da parte delle revisori, emerge che nella differenza, dal 2015 al 2016, c'è un aumento dei debiti da parte del Comune, una riduzione dei crediti, con un buco di circa 361 milioni di Euro. E questo ovviamente c'è la percezione chiara, se le cooperative sociali non prendono gli stipendi, se la situazione è quella che è evidentemente, è perché non c'è una capacità finanziaria dovuta affatto proprio a questi dati. Io credo che serva qualche taglio di nastri in meno, un po' più di verità da parte dell'amministrazione, che è chiamata, è stata votata dai cittadini per sapere un po' anche le cose come stanno, non solo per amministrare o per usare la città come un set cinematografico. In fondo è mettere la polvere sotto il tappeto, non si è fatto alcun intervento sulla questione per esempio delle partecipate, più volte reclamate da me, da diversi colleghi, alcune scelte importanti sulle partecipate, ma per esempio sulla raccolta differenziata, che ha costi salatissimi con obiettivi di differenziata assolutamente marginali. Non si è messo mano per esempio a quelle opportunità vere di sviluppo, che sono il piano regolatore, lo stesso corso martire, al di là dei programmi solo marginale, come tipo di attività parliamo dello 0,5% dei lavori che iniziano. Ecco, il voler mettere, non voler affrontare i problemi porta anche nelle migliori famiglie a poi una slavina, una valanga che ci cade addosso, dove qualcuno interessa a nascondere quali sono le vere ragioni o l'origine di queste valanghe. Ecco, la ragione è proprio questa, al non dire la verità sui numeri. Sarebbe bello, ma sarebbe anche un grande senso di responsabilità se potesse esserci un inconfronto pubblico. Non poteva mancare la risposta dell'assessore Arramo, Salvo Andò, che ha affermato a proposito di talune affermazioni riguardanti il bilancio consolidato e quello economico patrimoniale per la prima volta redatti con un nuovo metodo in tutti i comuni di Italia. Vorremmo rassicurare sul fatto che stiamo lavorando per recepire le osservazioni del collegio dei revisori e che quindi porteremo le derivere in aura soltanto quando avremo completato il lavoro e avremo pareri positivi. Gli atti di cui si parla, continua Salvo Andò, non hanno alcuna influenza sulla vita amministrativa e finanziaria del Comune. Parliamo adesso e cambiamo argomento, parliamo del caro tariffe aeree, perché tanti siciliani che vivono al di fuori della loro regione ritornano nella terra d'origine per le vacanze di Natale. Ma i costi dei biglietti aerei sono sempre più alti e divampano le polemiche anche per alcune dichiarazioni di rigio. Sentiamo Salvo Falcone. Il problema esiste al punto che l'ENAC non fa mistero sulla necessità di risolverlo. I siciliani che vivono, studiano o lavorano fuori sede in altre città d'Italia e che hanno intenzione di tornare nell'isola per trascorrere il Natale devono affrontare il costo esoso delle tariffe aeree. Prezzi vertiginosi, apparentemente fuori controllo, che minacciano l'idea di quella continuità territoriale, auspicata ma mai concessa, che dovrebbe stendersi dalle altre regioni d'Italia alla Sicilia e viceversa. Che si decida di partire da Catania o da Palermo, il risultato non cambia e la situazione non migliora neppure se si decide di utilizzare l'aeroporto di Comiso, più a pannaggio della low cost Ryanair. Abbiamo provato a chiedere chiarimenti all'ENAC, il massimo ente che in Italia si occupa dell'aviazione civile. Il suo presidente Vito Rigio non intende rilasciare dichiarazioni sull'argomento, tuttavia ha affidato all'ufficio stampa la seguente dichiarazione. Abbiamo iniziato ad affrontare il problema, ma non si è giunti ad alcuna soluzione. L'ENAC dunque parla di problema, ma la deriva risulta ancora più problematica della realtà dei fatti. Nessuna soluzione ciò è. Al di là di quanto potrà fare l'ENAC per le sue competenze, la soluzione deve essere di natura normativa. La concessione ciò è di quel criterio di continuità territoriale di cui gode già la Sardegna. Serve quindi un intervento legislativo più volte proposto, ma mai approvato. Ci ha riprovato nei giorni scorsi Magda Culotta, deputata del Partito Democratico e sindaco di Pollina. La concessione della continuità territoriale del trasporto aereo, marittimo e terrestre della Sicilia è la richiesta contenuta nella sua proposta di legge. Ma fa di più, indica anche le risorse economiche cui attingere, cioè la legge di stabilità. Voglio ricordare in quest'aula che... Ci avviciniamo alle vacanze di Natale, dunque anche al Capodanno. E cominciano i sequestri dei botti irregolari, dei botti illeciti. I sequestri sono avvenuti in questo caso ad Agrigento e a Siracusa. Simona D'Urso. Era stato allestito un vero e proprio supermarket del botto. 1140 confezioni di prodotti pirotecnici, 62 batterie di supporti per il lancio dei fuochi, inneschi di vario genere e pericolosissime bombe carta, erano nascosti in due depositi ricavati in un garage e nella cucina di due condomini alicata, comune Agrigentino. I botti di ogni genere, tre quintali di giochi pirotecnici proibiti, erano destinati al mercato nero in occasione delle ormai prossime festività di Natale e di fine anno. I carabinieri di Agrigento hanno sequestrato una vera e propria Santa Barbara. Si è reso necessario anche l'intervento degli artificieri antissabotaggio, per mettere in sicurezza l'esplosivo rinvenuto. Le manette sono così scattate ai polsi di un impiegato incensurato di 33 anni di Licata, che è stato portato alla carcere Petrusa di Agrigento. Il maneggio di questo materiale pericoloso avrebbe fruttato un guadagno di svariate migliaia di euro. Ma non è l'unica operazione di Natale Sicuro in Sicilia, perché le fiamme giole di Siracusa hanno sequestrato quasi 400 kg di fuochi pirotecnici scovati in un deposito abusivo adibito allo stoccaggio di botti illegali. Dalle operazioni di perquisizioni sono rinvenuti oltre 10.300 razzi esplodenti. È stato denunciato all'autorità giudiziaria un cinquantenne siracusano responsabile dei reati di fabbricazione o commercio abusivo di materiale esplodente. Le indagini condotte dalla finanza sono orientate a risalire alle rotte commerciali di approvvigionamento. Parliamo adesso di maltrattamento e abbandono di animali. L'associazione per delinquere ha anche truffa aggravata. Con queste motivazioni sono stati rinviati a giudizio il veterinario dell'associazione Nova Entra, un funzionario del Comune di Catania e due dirigenti dell'ASPE. Il servizio di Simona Scandura. Una vicenda che va avanti da moltissimi anni. La gestione dei canili dell'associazione Nova Entra è da tempo sotto i riflettori. Adesso la procura della Repubblica di Catania ha rinviato a giudizio gli indagati nell'inchiesta per maltrattamento e abbandono di animali, associazione per delinquere e truffa aggravata. Si tratta di Mario Buongiorno, veterinario e capo dell'associazione Nova Entra. Rosario Puglisi, all'epoca dei fatti dirigente comunale dell'ufficio ecologia, è responsabile per le gare d'appalto. Poi Carmelo Macri e Carmelo Rubino, perché entrambi i dirigenti ASPE del settore veterinario e infine Gaetano Buonanno, nel periodo dei fatti, funzionario comunale dell'ufficio anti-abusivismo edilizio. Tutto parte da una denuncia delle associazioni animaliste, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Lab e l'altra Zampa. Adesso arriva la decisione del giudice Santino Mirabella. Rinvio a giudizio. Ci spostiamo adesso nella zona industriale di Catania, dove sono previsti degli interventi importanti di risanamento, soprattutto per quanto riguarda la rete idrica. Ne abbiamo parlato questa mattina con i rappresentanti dell'associazione ZIC Reindustria, perché nel frattempo sulla zona industriale di Catania insistono alcune problematiche ancora non risolte. Giorgia Mosca. I fondi sono stati stanziati dall'IRSAP. 83 mila euro e i pozzi all'interno e all'esterno di Pantano d'Arci verranno ripristinati con l'installazione di pompe e la riparazione di condotte. Si mette un punto dunque all'emergenza idrica nella zona. La fumata bianca è arrivata dopo mesi di battaglie da parte dell'associazione ZIC, che aggrega 20 aziende della zona industriale. Grazie ai nostri interventi abbiamo stimolato l'IRSAP nel far emergere quelle che sono le esigenze delle aziende della zona industriale di Catania. Questo è uno dei piccoli traguardi che possiamo dire di aver raggiunto. dobbiamo anche riconoscere all'IRSAP un gesto di assolutamente attenzione nei confronti delle aziende della zona industriale, che è il minimo che comunque debba fare. Ma oggi il punto è un altro. Non vi è dubbio che gli interventi urgenti alla rete idrica siano un traguardo di cui gioire. Ma lì, alla zona industriale di Catania, c'è molto di più da fare. Lì la quotidianità scorre fra emergenze e carenze. Eppure, di aziende ce ne sono tante, le stesse che ogni anno versano fior di quattrini nelle casse del comune. Versiamo somme importanti all'amministrazione comunale, la Tari, l'Imu. Ovviamente, dietro queste forme di tassazione e di tariffe, non è solo la raccolta dei rifiuti, ma dovrebbe esserci anche la pulizia delle strade, la manutenzione, il decoro urbano, elementi che credo qui non sono presenti. Si gioca dunque al rimpallo fra disagi, scarsa sicurezza, manutenzione del verde pubblico e del sistema viario inesistente. Serve che gli imprenditori scendano in battaglia per conquistare quelli che sono semplicemente dei loro diritti. Andiamo a parlare adesso ancora delle prossime festività natalizie. Si è svolto a Monreale, nel Palermitano, il precetto natalizio regionale in favore del personale di tutte le forze armate. Simona D'Urso. La cattedrale di Monreale, famosa in tutto il mondo per i ricchi mosaici bizantini che ne decorano l'interno, è stata la location che ha ospitato ieri il precetto natalizio in favore del personale di tutte le forze armate. A ricevere i militari dei corpi armati dello Stato, nonché le più alte cariche civili e militari della regione, oltre all'arcivesco di Monreale, Monsignor Michele Pennisi, i cappellani militari della regione siciliana, il comandante marittimo Sicilia e il contramiraglio Nicola De Felice, in qualità della massima autorità interforze sul territorio siciliano. Le forze armate celebrano la ricorrenza del Santo Natale, ricordando le attività che fanno e che svolgono a favore e a tutela della patria e delle libere istituzioni. Come Dio si è trasformato uomo per servire l'umanità, così le forze armate e il personale militare, tutto, serve la comunità in tutela della difesa e della patria. Una celebrazione che ha offerto spunti di riflessione spirituale e sociale. Parte mia, invoco sulle vostre persone e sul vostro laddolo l'aiuto di Dio, mentre vi auguro che possiate vivere la festa del Natale nell'intimità delle vostre mani. Un'occasione in cui il Duomo di Monreale era gremito non solo di autorità civili, che con la loro partecipazione hanno ribadito il ruolo delle forze armate e delle forze dell'ordine in Sicilia. Ancora il Natale in primo piano con la comunità di Sant'Egidio a Catania, che sta preparando come ogni anno il pranzo di Natale per i più poveri. È tutto pronto, o quasi, nel senso che ancora viviamo il felice disordine che precede tutte le feste di Natale, anche quelle di casa nostra. Il 25 dicembre, il giorno di Natale, è il giorno in cui le famiglie si riuniscono. Ma c'è tanta gente, anzi sempre di più, che una famiglia non ce l'ha. Ed ecco che ci pensa la comunità di Sant'Egidio. Manca pochissimo al Natale, i volontari sono già al lavoro per impacchettare tutti i regali frutto di donazioni per le famiglie meno fortunate, che lunedì prossimo parteciperanno al pranzo organizzato nella chiesa di San Nicola l'Arena a Catania. Poveri, bambini, migranti, ogni anno aumentano sempre di più la fotografia disarmante di una società in grande difficoltà. Di anno in anno abbiamo visto crescere il numero dei poveri che vengono a pranzo a San Nicola l'Arena. L'anno scorso erano oltre 700, quest'anno credo che viaggiamo intorno a 850-900 persone. E aumenta purtroppo. Raccogliamo in questo modo la fragilità di questa città. Si pranza insieme, si chiacchiera, si scherza, esattamente come in una grande famiglia. Tutti insieme, catanesi e migranti, ospiti al Cara di Mineo. In prima linea anche l'imam della moschia di Catania, che è i tab della FID. È bello vedere questa città unita nella sua diversità. Certo non posso mancare a condividere questi momenti con i nostri fratelli. È un momento anche di gioia, anche di ricordo per una fascia della nostra società che ne ha di bisogno. Quest'anno sono 400 i volontari catanesi che hanno aderito all'iniziativa. Viene scelto il catering, si allestiscono i tavoli. Dunque si serve il pranzo in un'atmosfera magica che regala sorrisi. Come tutti gli altri giorni dell'anno, anche il giorno di Natale, mi piace stare insieme a chi ha meno, che sembra chi ha meno, però invece ha molto da dare nello spirito, nell'umanità. A me qua mi dicono che con me parlano anche i muri. E la mamma? Di tutti. Lei come partecipa? Cosa fa? Io ci faccio le frittate per tutti quelli che vanno in giro, dei poverelli che stanno fuori. Ma dobbiamo anche dire che lei però si mette anche a ballare con tutti quanti. Con tutti quanti, io ballo sempre. E noi ci fermiamo invece, non balliamo ovviamente, ci fermiamo invece per andare nella pausa pubblicitaria. e ritorniamo subito dopo con una ricca pagina sportiva. Onnigiovedì, ore 21, Ultima TV. Il gruppo Partito Popolare Europeo e Forza Italia organizzano il convegno IUSSOLI, crisi demografica e immigrazione. Giovedì 21 dicembre alle ore 17, presso l'Hotel Excelsior, Piazza Giovanni Verga 39, Catania. Intervengono l'onorevole Salvo Pogliese, parlamentare europeo Forza Italia, PPA, Partito Popolare Europeo. L'onorevole Elisabetta Gardini, parlamentare europeo, capo delegazione Forza Italia nel PPA, Partito Popolare Europeo. L'onorevole Alessandra Mussolini, parlamentare europeo Forza Italia, PPA, Partito Popolare Europeo. Natale a Caltagirone, tra fede, arte, folklore e cibi della tradizione. Sino a 7 gennaio, tanti eventi da non mancare. Card dei presepi artistici, musei, mostre, mercatini, concerti e spettacoli in strada. Il 17, 25, 26 dicembre e 6 gennaio, il presepe vivente. Natale a Caltagirone, patrimonio dell'umanità, un tuffo in un'atmosfera piena di fascino. www.comune.caltagirone.ct.it www.comune.caltagirone.it Vi aspetto mercoledì 20, alle 21.15, per parlare di salute e di benessere con i professionisti dell'azienda ospedaliera Garibaldi. www.comune.caltagirone.it Eccoci di nuovo per la pagina sportiva, che apriamo con il calcio, ma non mancheranno gli altri sport, parleremo anche di scherma e di triathlon calcio in primo piano, dicevamo con il Palermo in testa alla classifica, che adesso si prepara alla partita di Cesena, allo stadio Manuzzi, ha parlato il trequartista tra i coschi. A Bari era pure una gara difficile, però siamo riusciti a fare bene, abbiamo vinto questo. Ero contento per il mio gol, perché dopo tanto tempo che non ero in titolare, sono tornato con grande voglia e spero che lo dimostri in prossime partite, do sempre il mio massimo e vediamo che faccio bene pure. La Cesena sarà una partita difficile, però per me penso che questa squadra è importante che noi dobbiamo pensare a noi, giochiamo il nostro calcio, quello che dice il mister, facciamo tutto quello che sappiamo e sempre noi abbiamo dimostrato che fuori casa siamo forti, compatti e così dobbiamo continuare e speriamo che pure questa partita facciamo bene e prendiamo tre punti. Questo dunque tra i coschi per la Serie B. Scendiamo di un gradino in Serie C con il Catania, secondo in classifica, tre punti dal Lecce che giocherà ancora in trasferta, dopo la vittoria di Rende si recherà a Fondi nel Lazio per giocare la prossima partita sabato che sarà seguita come sempre su Ultima TV attraverso la trasmissione Febbra 90, la partita in diretta invece sarà il derby Siracusa-Trapani alle 20.30. Ma parliamo del Catania, delle scelte di Lucarelli e dei precedenti con il Fondi. Giovanni D'Antoni. La prova di forza, il messaggio alle pretendenti, il ritorno al gol di elementi importanti. Tutti segnali positivi che portano con sé un sorriso e una grossa consapevolezza, quella di lottare fino alla fine e giocarsi l'unico posto a disposizione per la promozione. Ritornello ricorrente, è vero, ma la strada è ancora lunga e in casa Catania dopo l'entusiasmante vittoria di Rende, che valsa il sesto successo stagionale lontano dal Massimino, si pensa al prossimo step. Prima di Natale c'è infatti un ultimo impegno esterno, la gara di Fondi, trasferta impegnativa su un campo difficile, il Purificato, che ha visto rallentare il Lecce e costretta addirittura il Trapani al KO. In vista del match di sabato alle 16.30, Cristiano Lucarelli proverà a recuperare la forma ottimale di alcuni elementi della Rosa, acciacchi fisici e più di qualche noia dall'infermeria, ma il tecnico etneo sa che contro la compagine laziale e squadra in grande forma, soprattutto nel mese di dicembre, occorrerà una prestazione di altrettanta qualità e quantità sulla scia di quella di Rende. Curial e Ripa sembrano aver trovato la quadra in attacco, hanno segnato, sgomitato e fatto bene il reparto insieme. Se anche in terra laziale dovessero mancare diversi uomini sugli esterni, Lucarelli sa di poter contare sull'apporto di entrambi. Anche nelle altre zone del campo permangono le essenze, dunque in vista di sabato con lodi di grazie e lungo degente blondet out. Si alzano le percentuali di 3-5-2, modulo che Lucarelli non ha mai smesso di concepire e trasformare. Se a questo aggiungiamo Pisseri, decisivo nella sfida del Lorenzon e che ha già collezionato 10 clean sheet stagionali, ossia il parziale dato di porte inviolate di questa stagione, vuol dire che di buono e positivo c'è più di un dato. Dato quest'ultimo storico, che riguarda l'ultimo e unico confronto fra i Pontini ed il Catania allo stadio purificato. Lo scorso anno i rossazzurri, allenati da Pino Rigoli, trovarono il pari soltanto ad un quarto d'ora dalla fine, con un penalty realizzato da Andrea Mazzarani. Adesso parliamo della situazione in casa Acragas, sempre difficile. C'è una risposta di Giavarini all'imprenditore italo-svizzero Nava, che ha parlato del debito e dei problemi dell'Acragas. Seguito delle parole infondate che ho dovuto ascoltare, dice Giavarini, e leggere sulla mia persona da parte di Roberto Nava, che si definisce imprenditore, a questo punto reputo corretto far luce sui debiti dei quali parlava il suddetto e che solo a parer suo riguardano il sottoscritto. Come lei ben sa, si legge nella nota, i debiti dell'Acragas, ai quali fa riferimento, sono riferibili ad anni precedenti all'ingresso in società di Marcello Giavarini. Ma lei ne era già a conoscenza, dice Giavarini appunto a Nava, a prova provata la lettera di intenti che lei stessa ha sottoscritto. Tali debiti risalgono esattamente al 31 dicembre 2014, 760 mila euro. Sottolineo ancora, prima che io subentrassi, se lei avesse letto il bilancio del 2014 con gli occhi di un valido imprenditore quale dice di essere, questo continua a scrivere Giavarini a Nava, alla pagina 3 tra i passivi avrebbe trovato i debiti e non avrebbe scritto tanti e tali spropositi utili solo a ridicolizzarsi, solo per farsi bello agli occhi degli agrigentini. Questo dunque il duro, la dura nota di Giavarini nei confronti di Nava in una situazione quella a Cragantina che resta sempre e comunque appesa ad un filo. Cambiamo argomento e parliamo adesso di scherma perché il campione del mondo di spada maschile individuale Paolo Pizzo è stato premiato ieri con il collare d'oro per meriti sportivi nel corso della cerimonia che si è tenuta a Roma al Foro Italico. Sentiamo proprio le dichiarazioni del campione catanese. Sono partito da lì, ho mostrato i primi passi schermistici nella mia città e poi Roma mi ha accolto e mi ha permesso di raggiungere questi risultati, il secondo collare d'oro, il secondo titolo mondiale e spero arrivi qualcos'altro ancora, ci lavoro tutti i giorni e questo per me è un grandissimo orgoglio, c'erano grandi campioni e essere qui tra loro, non ci si può vicore mai. Adesso si pensa subito al futuro da numero uno del ranking mondiale e non è cosa da poco, sto facendo qualcosa di grande, però c'è ancora spazio per migliorare, se non pensassi in questo modo la mia carriera sarebbe finita, si guarda avanti e ogni giorno devo migliorare dell'1% come dice il mio mental coach, quello è il mio obiettivo. Adesso parliamo di triathlon, sport affascinante che fonde in sé tre discipline, ci sono degli appuntamenti importanti, uno per fine inverno e uno durante la primavera prossima, il servizio di Giovanni D'Antoni. Dopo aver messo in archivio un 2017 ricco di emozioni e soddisfazioni con un dato lampante sul numero di nuovi iscritti destinati ad aumentare nel prossimo futuro, è arrivato il tempo dei bilanci per i protagonisti dell'affascinata disciplina del triathlon che sta compiendo nel corso degli anni successi e passi avanti. Intervenuti nei nostri studi, Roberto Russo e Tommaso Paxia, rispettivamente dirigente e presidente della Multisport Catania, hanno tracciato un resoconto della multidisciplina e pubblicizzato i prossimi eventi che interesseranno la Sicilia. Primo su tutti il Trinacre Alf, in programma a Santa Croce Camerina il prossimo 29 aprile. Il triathlon è una disciplina relativamente nuova che consiste di tre discipline diverse, il nuoto, la bici e la corsa. Senza soluzione di continuità vuol dire che si passa dal nuoto alla bici e alla corsa senza mai interrompere. Ci sono varie distanze nel panorama delle gare internazionali e quella che noi abbiamo il piacere e l'onore di organizzare già per il secondo anno consecutivo è un mezzo Ironman. L'anno scorso siamo stati molto fortunati e abbiamo avuto un successo di pubblico non indifferente oltre che di partecipanti, eravamo quasi 250 atleti e un totale di mille partecipanti a contorno della manifestazione. La Multisport Catania, associazione che dal 2004 promuove attivamente sport a livello agonistico e amatoriale e ha ottenuto risultati notevoli sia in campo regionale che nazionale, collaborerà anche ad un altro evento, la ventesima edizione dei Winter Triathlon, Kermes che quest'anno tra sabato 17 e domenica 18 febbraio 2018 vedrà i migliori atleti del continente sfidarsi ai piedi dell'Etna. L'Italia quest'anno ha avuto l'onore e anche direi l'onere di organizzare questa manifestazione e quindi la federazione internazionale ha assegnato all'Italia la manifestazione e la Sicilia si è proposta e sicuramente quando hanno sentito parlare della Sicilia come sede del campionato europeo di Winter Triathlon in molti hanno storto la bocca, hanno detto ma come è possibile? Si sono sorpresi e sono sicuramente rimasti molto contati. Diciamo che la Multisport Catania come società è una delle squadre che collaborerà alla sicura riuscita dell'evento. Un doppio appuntamento di triathlon per un anno che si pronuncia a essere entusiasmante. È tutto per questa edizione dei nostri telegiornali, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata. Grazie. Grazie.